Grazie Alle 17 in punto di venerdì 29 marzo il portone si apre ed anche nella città di Pulsano parte la tradizionale processione dei misteri del venerdì santo che nella città turistica in provincia di Taranto è particolarmente seguita. E' l'arci confraternita del Purgatorio a portare per le strade di Pulsano la processione del venerdì. Con le sue otto statue portate in spalla dai confratelli, un percorso di fede accompagnato dai suoi simboli, la troccola, il confalone e la croce dei misteri. Che cosa significa per lei essere il priore di questa confraternita? Un impegno notevole, io l'ho già fatto per 25 anni, non ci pensavo minimamente a rifarlo perché so benissimo quanti e quali siano gli impegni in un sodalizio così grosso e con gli impegni della settimana santa e della festa in onore della titolare. Però i confratelli a gran desiderio dopo sei anni di assenza dal ruolo praticamente mi hanno pregato di rimettermi in gioco e quindi sono nuovamente qui. Spero solamente per cinque anni poi dovrò cedere il comando a qualche confratello di buona volontà e che sia meritevole di tale incarico. Qual è lo spirito con cui il priore vive queste giornate, il triduo pasquale in particolare? Beh, innanzitutto con tanta fede nel cuore, tanta passione, tanta devozione che ci portiamo, molti di noi ci portano appresso sin da quando erano ragazzini. Io praticamente sono confratello dall'età di nove anni quindi le lascio immaginare quanti anni, quante settimane sante ho visto, ho attraversato e quante difficoltà in questi anni. Vivere la settimana santa non è semplice, non è semplice capirla. Noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile affinché i nostri diti siano veramente evangelizzazione per tutti i fedeli. La comunità assiste e segue in silenzio, un silenzio che ricorda il triduo pasquale, un silenzio interrotto a tratti solo dalle note delle marce funebri. Prima settimana santa a Pulsano per l'amministrazione guidata dal sindaco Pietro D'Alfonso. I primi riti da quando sono alla guida dell'amministrazione comunale e non nascondo che c'è un'emozione particolare nell'affrontare proprio queste ore, che sono ore di dedizione, di passione, di riflessione. Quindi quest'anno, a differenza degli altri anni in cui da privato cittadino mi avvicinavo ai riti, sarà sicuramente un'atmosfera diversa per me. Qual è stato il suo pensiero in questi giorni, quando pensava a questa Pasqua? Beh, intanto una Pasqua di riflessione, una Pasqua dove la gente possa, nell'unione degli intenti, possa avere una visione unitaria di comunità, una visione unitaria di spirito di sacrificio e quindi tante buone intenzioni per questa Pasqua 2024. Poi non nascondo che ho sperato sempre che le condizioni meteo ci accompagnassero perché, diciamo, questo periodo dell'anno è sempre un po' particolare e sarebbe stato un peccato che fosse rovinato dalle intemperie, invece siamo fortunati anche dal punto di vista climatico quest'anno. Abbiamo portato bene. Quali sono stati, e se ci sono state, delle novità che l'amministrazione comunale ha voluto apportare a questa Settimana Santa? No, novità nessuna perché i riti della Settimana Santa hanno la loro peculiarità, una loro forma mentis per cui non va assolutamente modificata, è proprio la tradizione che spinge l'organizzazione ad avere una Settimana Santa così intensa, così profonda, così bella, quindi c'è poco da cambiare, anzi c'è da andare sempre incontro a quella che è la storia di queste tradizioni, di questi riti e anno dopo anno credo che l'Arci Confraternita ci metta sempre del suo affinché, insomma, l'organizzazione sia quella ideale. Gli auguri di Pasqua per la comunità di Pulsano e anche a tutti i telespettatori di Antenna Sud da parte del sindaco Pietro D'Alfonso. Ringrazio intanto Antenna Sud per l'attenzione nei confronti della cittadina di Pulsano e poi gli auguri a tutti i miei concittadini affinché, come dicevo prima, questa sia una Pasqua di riflessione, una Pasqua di unità, è una Pasqua soprattutto serena e più lieve nei confronti di chi soffre, di chi ha problematiche, che è una Pasqua che aiuti i più deboli e chi è indietro rispetto agli altri.